Ciao ben trovati a tutti, allora facciamo il punto su due bancarie su Unicredit intesa dopo queste ultime sessioni in cui alcuni bancari e soprattutto questi due hanno evidenziato delle fasi di ritraccio Unicredit arrivata ai 12 euro, soglia psicologica cifra tonda disegna questa candela shooting di possibile ritraccio, infatti il ritraccio è in corso è partito, andando sul settimanale andiamo a evidenziare dei livelli sicuramente interessanti innanzitutto vediamo come Unicredit avesse formato un canale rialzista tuttora chiaramente nato, un canale rialzista solido con un rialzo sano con massimi e minimi crescenti e cerchiamo di individuare fino a dove potrebbe portarci il ritraccio partito semplicemente andando a evidenziare un canale ribassista di lunghissimo periodo con anche una trendline interna che ha ben individuato dei livelli cosiddetti di swing, vediamo i livelli supportivi, poi di resistenza, ancora di resistenza e poi successivamente ancora di resistenza. Vediamo come quindi la discesa potrebbe poi successivamente portarci a un livello supportivo dove cercare operatività long a favore di trend parliamo di area 11 euro, questo livello supportivo statico che avrebbe poi la protezione anche del livello dinamico ossia della parte alta della trendline del canale ribassista. Vediamo come peraltro le tre ultime candele formino anche un pattern living star, quindi proprio un pattern ribassista che probabilmente potrà portare il prezzo in area 11 euro, 10,95 euro, dove andremo a cercare sul daily pattern, quindi poi candele di stampo rialzista per cercare proprio l'ingresso long a favore di quello che è il trend primario, quindi sostanzialmente ci aspettiamo questo movimento sul titolo, per cui attendiamo senza alcuna fretta aria 11. È interessante vedere come anche intesa abbia formato dei chiari movimenti di stampo di bassistolo, andiamo proprio a vedere in maniera molto chiara come il livello dei 2,60, fosse stato resistenza, poi ecco qui siamo sempre sul settimanale con questa shooting che dettelvia al crollo del titolo e dei mercati per la pandemia, poi ripresa del corso dei prezzi, vediamo come è anche intesa, anche se non perfettamente ortodosso ovviamente, ma si è andata a creare un pattern ribassista andando a retestare ancora i 2,60. A questo punto su intesa si va a cercare un livello che potrebbe essere, come per un credit interessante, in ottica rialzista e probabilmente area 2,15, 2,20 potrebbe essere un livello dove il prezzo potrebbe anche arrivare se dovessimo avere il livello sul fuzzimib della resistenza di lungo periodo che dovesse tenere. Il livello peraltro di 2,15 è un livello che anche il ritracciamento di Fibonacci va in maniera abbastanza precisa a riconoscere dando per scontati livelli di partenza e di chiusura del movimento rialzista, quindi vediamo come 2,12, 2,15 possa essere sicuramente un livello interessante. Dovremmo chiaramente verificare il tutto arrivati più o meno a questo livello andando a cercare sempre come al solito sul daily, scendendo di time frame, quelli che sono poi i pattern per l'ingresso a favore del trend che rimane comunque sempre rialzista. Un saluto a tutti e buon trading.